Sicuramente sono situazioni estremamente positive perché abbiamo visto che intorno a questa nuova avventura veramente si è stretta tanta gente, c'è tanta voglia di vedere cosa sarà questa nuova società, cosa sarà questa nuova squadra, un po' tutta i settori della squadra, quindi tanto entusiasmo, abbiamo raggiunto quasi le 400 adesioni all'interno della società, quindi tanti ragazzi che si sono avvicinati a questa realtà, quindi veramente partiamo col piede migliore, col piede giusto, estremamente positivi, fiduciosi, che sarà una grande stagione per tutti i settori. È sicuramente un campionato di livello, un campionato nel quale però l'Olmo ormai ha quasi dieci anni che milita ormai fermamente, quindi ci auguriamo innanzitutto di avere una riconferma in questo campionato. Il discorso dei giovani è una filosofia, una filosofia che portiamo a casa dall'Olmo e della filosofia con la quale vogliamo crescere, e quindi crescere attraverso il vivaio. Proprio per questo siamo soddisfatti di aver raggiunto le 400 adesioni, perché all'interno di questi 400 ragazzi devono esserci 22 ragazzi che poi vestiranno la maglia della prima squadra. E se è potuto diventare il presidente del Cuneo Calcio per me è sicuramente innanzitutto un grande onore e voglio ringraziare chi ha cercato me per fare questo ruolo, quindi mi ha riempito di orgoglio. Come in tutte le cose che ho fatto nella vita, ci ho messo il massimo entusiasmo, il massimo impegno. Auguriamoci che attraverso il lavoro di tutti raggiungere i migliori risultati possibili.